presentiamo oggi la bullpadel vertex 02 avant 2021 la bullpadel vertex avant 21 ha una forma diamante piatto in glafite ossia un mix di fibra di vetro e fibra di carbonio che regala un'uscita di palla sublime ed anche tanta tanta potenza la gomma è una multieva tipica del brand bullpadel il piatto è finemente ruvido col sistema 3d grain il telaio è in fibra di carbonio carbon tube al 100% il peso oscilla 365 375 grammi il bilanciamento è alto bullpadel vertex avant 2021 è una racchetta adatta al giocatore che cerca potenza ma anche grande salita de bola e che non voglia spendere una fortuna dato che parliamo di un prezzo di 121 euro